da quando ho conosciuto l'arte sacerda ti è andata in una prigione rappresenteremo sulle tavole del nostro palcoscenico un'opera di shakespeare di giulio cesare quando Dario Bonetti nato in 16971 quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa scena i regni non ancora nati i linguaggi non ancora impettati e quante volte cesare dovrà sanguinare sui sceni di teatri come anche qui oggi in questo nostro carcere è brutto i suoi amici sono un uomo d'onore a 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